inizia la presentazione los angeles 2001 umili origini ragazzini locali corrono sulle strade e rapinano la gente specializzate in furti ad alta velocità evasioni in movimento rapine sui treni se poteva essere fatto con le auto meglio se violava le leggi di dio e della gravità ancora meglio ma i giorni in cui un uomo al volante di un auto può fare la differenza sono finiti preparati a ciò che sta per arrivare allacciati la cintura meglio osservare questa meravigliosa famiglia mi riempie di un grande orgoglio il grande dominic toretto se tu non fossi stato dietro a quel volante non sarei diventato ciò che sono oggi e ora sono l'uomo che distruggerà la tua famiglia pezzo per pezzo come va? si ho jacob mi ha mandato tuo padre vediamo come ne esci boom domi sapevo che mi cercavi io sono dante on champagne spariamo tutti contro tutti e vediamo che succede è per questo che sono venuto qui è ora di finirla scaviamo qualche fossa di te non ci si può affidare neanche tu sei sulla mia lista di natale è arrivata la cavalleria inizia lo spettacolo entra mini tes mini tes non avevamo parlato di questo salute ci servono armi e auto non è possibile macchine cannone è stato fichissimo vi piacciono le sorprese? io le adoro quanto abbiamo? circa quattro minuti sufficienti resterei a terra se fossi in te allora dovrei colpirmi più forte il gioco è finito dom hai perso è l'ultimo giro forse questa è la fine ma sai che ti dico? sento odore di magia dicono che quando sei di fronte alla morte tutta la vita ti passa davanti agli occhi hanno ragione se questo è il traguardo non ho paura papà ma chi si non ho paura ma chi si l'inverno io Grazie a tutti.